Allora, le corde che sono state toccate sono state toccate corde dell'equilibrio. Una sconfitta a volte, come ho detto la settimana scorsa, può far bene e quindi abbiamo parlato di quello che avremmo dovuto fare durante gli allenamenti per preparare questa partita né di più né di meno. La cosa che mi è piaciuta oggi riguardo a questo perché sono state toccate le corde giuste nel senso che la squadra è partita forte e dopo una sconfitta a volte hai il timore perché poi secondo tutti devi vincere per forza ma non è sempre così facile e quindi magari dentro un giocatore può scattare un po' di paura, di ansia, invece questo non c'è stato e questa è la cosa che mi è piaciuta più di tutti della squadra, che è partita forte. I primi minuti abbiamo preso un calcio d'angolo, preso una punizione, rischiato di far gol, è stata una grande partenza della squadra e quindi quella è la cosa che mi piace più di tutti. Poi sì, il secondo tempo abbiamo un po' sofferto il loro possesso palla, non abbiamo avuto grandi tiri in porta da parte loro, non ricordo grandi parate di Lewandowski, però abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte, quindi era inevitabile soffrire un po' il loro possesso palla. Mi fa piacere che vedete il carattere della squadra, che si è visto il carattere della squadra, si è visto una squadra che è attaccata alla partita, che non molla, difficilmente che molla e quindi è una grande caratteristica per una squadra. Non credo che… noi abbiamo avuto almeno tre occasioni in cui potevamo fare gol e loro non ricordo grandi parate di Lewandowski, quindi non capisco che era più giusto un pareggio, non faccio fatica un po' a comprenderlo perché poi sì, forse il loro possesso palla nel secondo tempo è stato maggiore, ma il possesso palla fino a se stesso non porta al risultato. Noi siamo stati bravi perché abbiamo trovato gol subito e poi l'abbiamo tenuto e non è facile tenerlo contro una squadra così forte e quindi credo che sia una vittoria meritata la nostra. Bonino secondo me ha fatto una buona prestazione, non era facile per lui perché era la prima da titolare e era un po' che non giocava, dal lockdown dell'anno scorso e poi quest'anno ha avuto un periodo di inattività e secondo me ha fatto una buona partita, questi sono i primi passi del suo inizio e quindi secondo me ha fatto una buona partita. Di Akite in quel ruolo lì deve migliorare tanto, ha grande potenziale, ma secondo me da difensore centrale rende maggiormente perché il terzino è un ruolo molto complesso, è un ruolo tecnico, molto tecnico, è un ruolo di tempi di gioco, è un ruolo di posture, non è semplice, la sua fisicità, la sua irruenza da difensore centrale lo porta a fare ottime prestazioni, da terzino deve migliorare. Quando lavoriamo con lui terzino ci stiamo lavorando, è un processo lungo ma a parte alcuni errori non ha fatto una brutta partita secondo me di Akite oggi. Finita la conferenza stampa, un salto su 11 Sport a vedere Bari Ternano lo fai? No, ma va assolutamente no, no perché so il livello di questo campionato e quello che a me la cosa che veramente più, il mio lavoro più grande sarà riuscire a tirare fuori il massimo da questa squadra e basta. Adesso è troppo presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento, ma lo dico con molta serenità perché questa squadra ha gran potenziale, la difficoltà sarà massimizzare questo potenziale, quindi aver costanza, aver carattere nel mantenere e nel perseguire un campionato del genere. Ci saranno difficoltà, ci saranno ostacoli, per quello cerco di rimanere sempre equilibrato e guardare partita dopo partita. So che i risultati sono buoni, so che è facile farsi prendere dall'entusiasmo come giusto che sia, ma questa squadra ha il potenziale e noi dobbiamo riuscire a tirare fuori il meglio. Se poi il meglio è da ottavo, sesto, secondo, io non lo so oggi, ma riuscire a tirare fuori il meglio è il nostro obiettivo.